In questo territorio l'ape, come in tutti gli altri a dire il vero, ma in questo in particolare caratterizzato da un'elevatissima biodiversità vegetale, l'ape garantisce l'impollinazione ottimale non solo delle culture agricole ma anche delle specie vegetali autoctone. Oltre l'80% delle piante spontanee sono impollinate da vari insetti tra i quali il principale è proprio l'ape. Nell'immaginario collettivo l'errore che molte volte si fa è quello di identificare l'apicoltura col miele. Ok, questo è vero perché il miele è uno dei prodotti principi dell'alveare. Allora voglio solo dire dei numeri, così per rendere la dimensione del fenomeno di cui si sta parlando oggi. Negli ultimi anni, parlo dei dati italiani ovviamente, ovviamente l'indotto dovuto alla sola produzione di miele anno si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Solo miele. Se noi consideriamo l'indotto di altri prodotti, perché poi l'apicoltura, l'alveare non è che produce solamente miele ma produce anche altri prodotti, se consideriamo l'indotto, diciamo questi 20 milioni di euro all'anno diventano circa 60 milioni. Ok, queste cifre rapportate al radio, cioè al reddito agricolo diretto, rappresentano circa il 3 per mille. Questa cifra, per la verità, sotto questo aspetto è una cifra molto molto piccola e sembrerebbe relegare l'apicoltura a un settore marginale. Ok, detto questo, diciamo, se noi consideriamo invece il valore economico attribuibile alla sola impollinazione che le api fanno verso le colture agrarie, queste cifre salgono di molto e cioè parliamo, quindi sul plus che le api danno alle produzioni agricole diventa 1.500-2.000 milioni di euro e non stiamo parlando più dei 60 milioni. Questo che cosa significa? Con queste cifre non possiamo certamente considerare l'apicoltura come un settore marginale bensì come un settore più importante dell'economia nazionale.